Musica 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 Weh, è finito di commentare le robe o... Ragazzi cosa avete da mangiare oggi? Weh, cosa vuoi mangiare che mia madre sta cucinando? Mi scopo tua madre, coglione! Ah! Yeah, già lo sai! Parto con freestyle! Le mie tecniche sono perfette! Con le mie rime io ti faccio affette! Ah! Lo sai chi mi scopo? Ah! Mi scopo tua madre! Oh! Tua madre, tua madre! Oh! Tua madre, coglione! Oh! 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 Oddio! Oh! Ciao Weh, scusa, ti lascio un attimo mio figlio e devo fare due commissioni eh! Mi raccomando! Dieci minuti arrivo eh! Fa il bravo eh! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Non era mia mamma? Nel letto, coglione! E tu chi sei? Tuo padre, coglione! ah a a a a a a a Grazie per la visione